La gente viaggia e va a telefonare col topo barba che sa di pioggia e la ventiquattro ore perduti nel corriere della sera nel valle vieni di una cameriera ma perché ogni giorno viene sera a volte un uomo è da solo perché ha in testa stranità perché ha paura del sesso per la smania di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro perché la vita l'ha già messo al muro o perché in un mondo falso è un uomo vero Dio delle città e dell'immensità se è vero che ci sei e hai piacciato più di noi vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei vediamo se si può farci amare come siamo senza più di noi senza più di intentarci più con le prosie e le occe non più perché questa vita mi estende e chi stessa da un mio cuore oppure fa l'amore ci sono uomini soli per la sete d'avventura perché hanno studiato da prete o per vent'anni di galera per madri che non li hanno mai spezzati per donne che li hanno rivoltati e persi o solo perché sono dei diversi Dio delle città e dell'immensità se è vero che ci sei e hai piacciato più di noi vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiare un po' per noi ma Dio delle città e dell'immensità magari tu ci sei e problemi non ne hai ma quaggiù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo oh 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 che č pensevi che sia iniziato guardare tu sei e scripture dovuto da guardare le donne che sarai più giù che vorrei dai queste Economics Grazie a tutti.